Si fanno i nomi del possibile e designato alla guida del chiacchierato comando della polizia locale di Angri, dopo che l'attuale comandante, il capitano Rosario Cascone, si era dimesso già lo scorso ottobre per motivi strettamente personali. La ricerca del nuovo comandante ha avuto un iter contrastato quanto discutibile, culminato con l'indizione del bando e il successivo annullamento lo scorso 23 dicembre, dopo che erano stati esaminati i pretendenti alla guida del drappello, che nel frattempo è cresciuto di ben quattro unità grazie alla mobilità e alla necessità di dotare l'organico dei tanto sospirati cipsi motociclisti che almeno per il momento dovranno accontentarsi di utilizzare solo le auto in dotazione al comando per la storica mancanza delle moto. La decisione da parte del primo cittadino Mauri di procedere dopo il repentino annullamento del contestato bando redatto ai sensi dell'articolo 110 del decreto legislativo 18-8-2000-267 per individuare nella posizione D3 fino al prossimo 31 dicembre 2011, mediante la nomina previo valutazione dei curriculum personali, ha fatto storcere non poco il naso agli interessati che non avrebbero accettato di buon grado la contrastata decisione fino a ricorrere alle competenti autorità, un'azione che potrebbe rallentare di non poco la nomina del nuovo comandante. Nelle ultime ore circola con insistenza un nome su tutti, quello di Giancarlo Correale, attuale comandante dei caschi bianchi di Nociare Inferiore e uno dei fautori della Polizia dell'Agro, un progetto che piace molto agli amministratori, che ha come punto di forza l'interscambio di agenti tra i comuni aderenti al progetto e che nelle intenzioni del primo cittadino di Angri potrebbe essere una valida soluzione alla cronica carenza del personale nel corpo di Viale Michelangelo. Ma il dato concreto ad oggi è la totale mancanza di indicazioni circa il nuovo comandante, mentre sono sempre più numerose le attestazioni di stima e di ammirazione nei confronti del capitano Cascone da parte di cittadini e di colleghi per la sua lodevole azione, che ha portato alla ribalta lo sparuto drappello angrese, sempre in prima linea per garantire la sicurezza cittadina a toccare.